Cari amiche e cari amici, questo è un estratto di un articolo di Francesco Lamedola che vi consiglio di leggere in versione integrale sul sito Nuova Italia, Accademia Adriatica di Filosofia. Titolo, fra maestri deflorati e presidenti abusati, a voi il caos. Se dovessimo indicare il fattore più importante tra i tanti che concorrono a determinare lo stato di crisi, disordine permanente nel quale versa la nostra società a tutti i livelli, diremmo che il relativismo morale, e se ci si chiedesse una maggior precisione, ossia di indicare un comportamento sociale diffuso che meglio di tutti lo rappresenta, indicheremo la lussuria. Sì, lo sappiamo, questa affermazione suona malissimo ai delicati orecchi di quasi tutti, a sinistra, non meno che a destra e al centro. Che sono mai questi discorsi muffiti da bacchettoni, da vecchie zitelle sui comportamenti sessuali disordinati, poi? Anche se vi sono comportamenti moralmente più gravi e peccati che macchiano l'anima in maniera molto peggiore, è attraverso il varco del sesso che la marea del disordine è entrata e si è estesa a macchia d'olio nella nostra società, portandosi a rimorchio tutti gli altri vizi, superbia, avarizia, ira, menzogna, calunnia, odio, ambizione smodata e così via. Quando una persona sprofonda nel disordine sessuale e si invischia in comportamenti e stili di vita che insidiano la santità del matrimonio e espongono a traumi e sofferenze i figli innocenti, la strada è aperta, perché essa scende sempre più in basso, sempre più in basso e non si ferma davanti a nulla. La lussuria, ad esempio, apre la strada all'adulterio, che rende necessaria la menzogna, la dissimulazione, che favoriscono tradimenti ancora più gravi e talvolta culminano nella violenza, nell'omicidio, nel suicidio. Se la società ordierna è arrivata al punto di considerare comportamenti sessuali disordinati come un sacro diritto della persona, nel quale nessuno ha diritto di giudicare, e questo si deve al fatto che essa ha introiettato sino in fondo i cattivi principi del liberalismo e scordato quelli del cristianesimo. L'idea che sotto le lenzuola ciascuno è padrone di fare ciò che gli pare e piace, ecco questa è un'idea liberale, meglio ancora libertina, nasce da un edonismo e da un individualismo esasperati. In particolare l'idea esiziale, già denunciata da Pio IX nel sillabo, che la libertà consista nel fare ciò che si crede e non ciò che è giusto secondo la coscienza e verità, ecco questa è madre di tutti i disordini, fra i quali spiccano quelli sessuali, perché predispongono l'anima ogni tipo di relativismo, cinismo, opportunismo. Se poi a ciò si aggiunge il pessimo esempio dei cattivi maestri, il gioco è fatto. I giovani specialmente attraverso la televisione, cinema, giochi elettronici, fanno proprio quell'idea, crescono convinti, anzi convintissimi di avere diritto di sperimentare ogni sorta di vizio e di piacere, purché ne abbiano voglia. Per semplificare questo discorso prendiamo due casi particolari, quello dello scrittore brasiliano Paolo Coelho, da molti considerato una specie di mistico e nome tutelare della cultura New Age, e quello del presidente francese Emmanuel Macron. Sono due personaggi pubblici nei rispettivi ambiti, piaccia o no, dei modelli per i giovani. Vediamo come i loro disordini sessuali possono fornire dei cattivi esempi ai loro ammiratori. Il biografo di Paolo Coelho scrive «Quando il demone dell'omosessualità decise di ritentarlo, recitava nell'opera da tre soldi e viveva nella casa dei genitori. Stavolta non fu lui a prendere l'iniziativa, ma un attore sulla Trentina che lavorava nel medesimo spettacolo. Vuoi venire a dormire da me?» Nervoso e sorpreso da quell'approccio inatteso, Paolo rispose impulsivamente «Sì, certo». Così passarono la notte insieme. La sensazione di disagio si prostrasse per tutta la notte. La luce del sole cominciava a filtrare nel piccolo appartamento quando finalmente riuscirono a scopare. E Paolo Coelho si convince una volta per tutte che non era omosessuale. Ecco, questo è un buon esempio di come la cultura moderna presenta la maniera giusta o comunque la maniera normale di affrontare e risolvere i propri dubbi esistenziali. Se si è tormentati dalla curiosità di sapere cosa si prova, ad esempio a farsi di eroina, bisogna soddisfare questa curiosità perché altrimenti ci si porterebbe dietro questo tarletto, questo desiderio insoddisfatto e ciò potrebbe generare chissà quali nevrosi, come insegna la psicanalisi freudiana, come ripetono gli stancabili legioni di educatori, pedagogisti libertari a partire dall'anno 1968. Se poi si attratti sessualmente dai bambini, dove sarà mai il problema a patto che quei bambini siano consenzienti e che si usi con loro necessaria delicatezza. E già, fin dal 1977 l'intellettualità parigina, come dire, il meglio del meglio della cultura europea mondiale, si è affrettata a sottoscrivere il manifesto in difesa della pedofilia, pubblicato su un quotidiano comunista, Liberation. In calce a quel simpatico e glorioso documento si trovano i più bei nomi del progressismo francese, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Daniel Conbendit, Jacques Lang da Michel Foucault, André Glucksmann, Roland Barthes, Félix Guattari e Philippe Soleil. Nomi, piuttosto cognomi, che hanno spesso una certa desinenza, una certa origine, che non è il caso di esplicitare. Nomi che muovono i capi di Stato delle maggiori nazioni, anche se non è cosa educata a dirlo a voce alta, e si rischia di passare immediatamente per razzisti, o anche peggio. Quanto al dubbio se si è omosessuali, non ci piove. L'unica maniera per levarsi questo dubbio è di andare a letto con la prima persona del proprio sesso che si è disposta a venirci, come nel caso di Paolo Coelho, il quale, mentre intratteneva innumerevoli relazioni con svariate donne, colto dall'amletico dubbio, trovò che la sua maniera di chiarirsi l'idea era quella di fare sesso con un uomo qualsiasi, che penetrò e dal quale fu penetrato, senza però, ai noi, liberarsi, per così dire, su due piedi dall'atroce e molesto interrogativo. Ragion per cui ecco il nostro Paoligno a bordare un secondo maschio, sottoporsi nuovamente alla dura ma liberante prova del fuoco, e stavolta uscirne definitivamente illuminato e sciolto da ogni dubbio. No, non era omosessuale. E ora che aveva provato, riprovato e bevuto a quel calice sino all'ultima goccia, poteva dirlo in tutta coscienza e con perfetta sincerità. Ed ecco come il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha descritto pudicamente la sua torvida relazione con la propria insegnante di liceo, Brigitte Trognò, 24 anni, più vecchia di lui, dalla quale venne abusato quando era appena sedicenne, e che lasciò marito e tre figli per andare a vivere con lui, divenendo più tardi sua moglie. È successo al liceo? Tramite il teatro ho incontrato Brigitte. Le cose sono successe in una maniera quasi impercettibile, fatto sta che mi sono innamorato, grazie a una complicità intellettuale che giorno dopo giorno si è trasformata in una vicinanza fisica, poi senza la minima forzatura in una passione che dura tuttora. Brigitte all'epoca aveva un marito, tre figli, ha rinunciato a tutto quanto per me, ma lo ha fatto con costante preoccupazione per i figli, e non imponendomi mai nulla, anzi facendomi capire con dolcezza che poteva accadere l'impensabile. Ora, si può capire che Macron voglia far credere che l'amore fra lui e la professoressa quarantenne sposata, madre di tre figli, sia stato solo platonico finché lui era sui banchi di scuola, e solo in seguito sia divenuta una relazione fisica. In realtà non è così che sono andate le cose, ma naturalmente ci sarebbe la prospettiva della galera per la matura signora che si porta a letto minorenne, per giunta un suo studente di liceo, venendo meno a ogni etica professionale. Sapete come si chiama? Stupro. E prevede, oltre alla sanzione penale, in quanto reato grave, anche una sanzione amministrativa che consiste nel licenziamento. Passi, dunque, per questa pietosa bugia. Ma che il signorino Macron pretenda di fare l'apologia dei suoi amori con la professoressa pedofila, e diciamola questa parola politicamente scorretta, perché secondo la cultura femminista i pedofili sono solo maschi. Quindi che questo racconto di Macron prenda in giro la nostra intelligenza trasformando l'abuso del quale è stato vittima, sia pure volontaria, in una complicità romantica e la torbida passione di lei che il pubblico avrebbe senz'altro condannato come un obbrobrio. Ecco, se si fosse trattato di un insegnante maschio, cosa sarebbe successo? E infine che Macron voglia elogiare il purissimo sentimento materno della sua amante nonna, attenzione a lui stesso a evocare la figura della nonna, ebbene diciamo pure che è un boccone un po' troppo grosso da digerire, sì, per chiunque. Per quanto ben disposto verso la gente della banca Rothschild, è abituato alle vanterie, alle puerili smargiassate di questo soggetto, il quale dall'inizio alla fine del suo noioso e narcisistico libro non fa che blaterare della grandezza della Francia, della fossa della Francia, che grazie a lui tornerà agli antichi splendori, un ruolo che aveva deciso di assumersi fin dagli anni dell'adolescenza. Guarda caso, proprio negli anni del trauma sessuale dallo subito è mai riconosciuto, un trauma che probabilmente ha favorito in lui la spinta omosessuale, una realtà che in Francia non è un segreto per nessuno. Coelho e Macron, due uomini diversi fra i mille e mille che avremmo potuto prendere a titolo d'esempio. Coelho appartiene alla passata generazione, è nato nel 1947 e Macron rappresenta la gioventù relativamente, essendo nato nel 1977. Coelho è visto da milioni e milioni di lettori come maestro di spiritualità. Macron, specie dai giovani, come un modello di politico vincente. E l'uno e l'altro hanno dato esempio della sregolatezza, più o meno mascherata e truccata, in modo da apparire politicamente corretta, socialmente accettabile. Certo, la carriera di Coelho avrebbe potuto infrangersi fin dall'inizio, se ne usai esperimenti sessuali, avesse coinvolto dei bambini, ovesse usato violenza a una delle sue amanti. E quella di Macron non sarebbe neanche iniziata se fosse stato lui a portarsi a letto una studentessa minorenne, abusando della sua veste di educatore. Tuttavia, si sa, quando si è di casa in certi ambienti sociali e intellettuali, i peggiori peccati vengono condonati. Un caso per tutti. Il regista Roman Polanski, così amato da quelle sinistre libertari e da noi già incontrate parlando del manifesto a favore della pedofilia, da aver goduto delle altissime protezioni, diffuse simpatie, anche dopo che si era diffusa la notizia, che era ricercato dalla polizia americana perché a suo tempo aveva stuprato una ragazzina tredicenne, figlia di suoi amici. A certuni viene perdonato tutto, ad altri non viene perdonato nulla, neppure le colpe che in realtà non hanno mai avuto, ma che vengono attribuite loro. Vedi l'ignobile persecuzione giudiziaria del cardinal George Pell in Australia. Misteri profondi del bel mondo, misteri profondi del bel mondo dei mezzi di informazione, dello spettacolo e soprattutto dell'alta finanza. Misteri dove capita spesso di imbattersi, ma sarà sicuramente una coincidenza, in quei cognomi, sì, quei cognomi ai quali accennavo poco fa. Bene, cari amiche e cari amici, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di emergenza, Decimo Toro 2. Un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al Decimo Toro. Iscrivetevi al Decimo Toro 2, mi raccomando. Marco Cosmo.